salve mi piace questo poligono idor sono 10 metri da qui da dove stava ho messo il telefonino la camera la videocamera sono nove mi faccio un metro più indietro che sparo con una pistola d'avancarica ho messo non innesco il luminello che del soli ma luminelli normale con le caposurire normali rvs queste qua 10 75 con una miscela di polvere da sparo da me gm3 e polvere nera quella molto f3 diciamo f più 3 f più 4 per gli scodellini delle pistole a pietra in modo che si infiamma subito e il rapporto 2 e 1 2 di questa polvere nera più 1 di gm3 e non c'è bisogno del pesco metri solo solo 3 grani hanno un'energia intorno ai 17 18 g con palle ram per pistole ppq questa calibro 43 della umarex 1,36 grammi spara 10 metri in modo che l'impatto non è molto violento ecco proviamo il primo colpo perfetto ora questo mi ha dato un mio amico solo 3 grani 5 6 cartucce detenzione di polvere da sparo io non la posso detenere ma ma quale detenzione questo mio amico mi ha dato questi necci sta qua e poi se ne va quindi quale detenzione solo per sparare io quale problema si mette qui dentro già misurata scendere bene sennò uno sparo poi con un po di questo pazzolettino di carta si fa il patch già tengo tutto schematizzato è così perfetto metto la palla qua si spinge e sennò non batti più può succedere che sono appena 3 grani vediamo che succede speriamo che parte in effetti 1 e 2 si vede no no uno a destra e uno a sinistra ok era pure un poco buio perciò c'è da dire questo che non è che sia stato molto preciso ok chiudiamo grazie a tutti